Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6 che apriamo con la cronaca. Gli agenti del corpo forestale hanno sequestrato questa mattina un altro balcone della New Town della frazione aquilana di Cese di Preturo. Un nuovo capitolo di una vicenda iniziata oramai da più di un anno e costellata di inchieste e altri sequestri di balconi pericolosi poiché realizzati con materiali ritenuti scadenti. Il servizio di Daniela Rosone. Nuova rimozione di un balcone pericolante e a rischio crollo negli alloggi antisismici del progetto Case dell'Aquila realizzati dopo il terremoto del 6 aprile per ospitare 15.000 aquilane rimasti senza casa. Questa mattina i tecnici e gli uomini del comando provinciale del corpo forestale dello Stato sono stati nella New Town di Cese di Preturo, una delle 19 realizzate, per smantellare un'altra terrazza che nello scorso novembre ha avuto un cedimento strutturale. Secondo quanto riscontrato, questo danneggiamento potrebbe portare al crollo. Sul posto gli uomini del comando stazione di torno in parte e della scuola di polizia giudiziaria della forestale. Qualche mese fa gli inquilini dell'alloggio, una donna e sua figlia, erano stati trasferiti in un altro appartamento vuoto. Nei mesi scorsi, lo ricordiamo, 800 balconi sono stati sequestrati in 494 appartamenti per ordine del giudice per le indagini preliminari del Tribunale dell'Aquila, dopo gli accertamenti della Procura della Repubblica, affidati alla forestale, nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria aperta a seguito del primo crollo il 2 settembre del 2014, che ha portato a iscrivere 37 persone nel registro degli indagati, con le accuse di truffa aggravata e danni dello Stato da 18 milioni di euro, frode nelle pubbliche forniture, falso in atto pubblico e crollo. Le perizie condotte sulle terrazze, i cui esiti sono arrivati dopo molti mesi di attesa, hanno riscontrato difetti di costruzione, che hanno portato il legno, peraltro ritenuto di qualità scadente, a marcire e quindi a crollare. Il Comune dell'Aquila, proprietario degli alloggi, ha lanciato l'allarme per la carenza di personale, che sarebbe necessario a controllare la quasi totalità dei balconi, visto che l'indagine ha coinvolto solo il 10% dei manufatti, scoprendo gravi carenze. Il gruppo del Tribunale di Pescara, Nicola Colantonio, ha rinviato a giudizio, davanti alla Corte d'Assise di Chieti, i genitori e il nonno di Francesco Spinelli, il bimbo di tre anni, morto il 24 maggio del 2014, dopo essere stato investito da un treno regionale in prossimità della stazione San Marco a Pescara. La madre del piccolo è accusata di abbandono di minori, mentre il padre e il nonno sono accusati di concorso in omicidio colposo. In una braceria aquilana prende fuoco la cappa della cucina, questa è l'ipotesi più credibile. Evacuato un intero palazzo in Viale Corrado IV, sede di diverse attività commerciali e uffici. Tanta paura e presumibilmente tanti danni in un ristorante braceria lungo Viale Corrado IV all'Aquila, dove poco prima dell'ora di pranzo si è scatenato un incendio che, stando a quanto appreso, ha interessato la zona della cucina e della sala. Ad andare a fuoco, secondo le prime informazioni, sarebbe andata la cappa del locale Cucina, da cui si sarebbero propagate le fiamme che hanno interessato anche altre aree del ristorante, dove erano in corso i preparativi per il servizio dell'ora di pranzo. Nessun ferito intossicato, né tra i dipendenti del ristorante, né tra quelli degli altri uffici ospitati nell'immobile, dove tutti sono stati evacuati per ragioni di sicurezza e per consentire ai vigili del fuoco di effettuare rilievi. Secondo il proprietario della braceria, i danni potrebbero ammontare a decine di migliaia di euro, ma solo dopo un sopralluogo più approfondito, che consentirà di chiarire esattamente la dinamica dell'incendio, si potrà effettuare una stima precisa. La spessa coltre di fumo, infatti, non consentiva ancora l'ingresso nel locale all'arrivo della nostra truppa. Nell'area circostante, nel frattempo, un capannello di curiosi e le auto che rallentavano per osservare ciò che era accaduto, hanno contribuito a mandare in tilt la circolazione in una delle zone più trafficate della città. E' da un incendio che si è sviluppato all'interno di un edificio a quello che si è sviluppato all'esterno, in particolare nel Terramano. Possono partire le immagini, giornata di gran lavoro per i vigili del fuoco, costretti a intervenire in lungo e in largo sul territorio a causa anche del forte vento, oltre che delle alte temperature decisamente al di sopra delle medie stagionali. I pompieri sono stati al lavoro per un incendio nelle vicinanze dei campetti di San Nicolò. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno creato non pochi problemi ai vigili del fuoco sul posto. E' intervenuta anche la polizia. Continua a far discutere l'ordinanza sulle targhe alterne decise dal comune di Pescara. Ad opporsi al provvedimento c'è il centrodestra che chiede una seduta di consiglio straordinario. Domani primo giorno di targhe alterne a Pescara e già la città è spaccata tra chi è favorevole e chi pensa che la decisione graverà solo su esercenti e cittadini. Il centrodestra chiede un consiglio comunale straordinario per mettere al voto l'ordinanza promulgata da sindaco e vice sindaco, ricordando che il fenomeno dello smog non è più attribuibile solo ai mezzi di trasporto. Penso che il consiglio comunale straordinario sia una cosa doverosa da fare per cercare di sensibilizzare ancora di più il sindaco e il vice sindaco invece che in maniera testarda continuano ad andare avanti e a promuovere questo provvedimento che ha visto la politica contraria in maniera trasversale, centrodestra e centrosinistra. Ha visto le associazioni di categoria mostrarsi contrariamente contrarie. Abbiamo visto che l'Istituto Nazionale di Sanità ha detto che il veicolo delle targhe alterne è uno strumento che non ha nessun tipo di presa sulla risoluzione del problema. Peraltro siamo in un momento di saldi, quindi un momento importante per il commercio cittadino e quindi riteniamo che questa ordinanza vada a vessare e vada a ostacolare fortemente il periodo dei saldi quindi il periodo per i commercianti più proficuo. Tra le iniziative suggerite dal centrodestra c'è quella sulla regolamentazione degli edifici privati. Sembra infatti che il 60% delle emissioni nocive provenga proprio dall'utilizzo dei riscaldamenti. Noi sappiamo che i dati più importanti dello smog arrivano non dallo smog proveniente dalle auto bensì quello derivante dall'inquinamento domestico, circa il 60%. Quindi parliamo delle stufe, del riscaldamento troppo elevato, dei pallet che vengono usati. Quindi si può fare tanto ma in ogni caso non si può fare all'ultimo momento quando ormai la situazione è difficile e quindi mette in atto ordinanze che sono tardive e dannose per la città e per i pescaresi. E restiamo a Pescara con le prossime immagini. Prosegue la protesta degli interinali della municipalizzata attiva che poco prima delle 13 di questa mattina hanno occupato pacificamente per una decina di minuti l'asse attrezzato nella zona del porto. Si è trattato di un blitz improvviso che ha visto una cinquantina di persone spostarsi dal presidio di Piazza Italia, dove si trovano da sabato mattina con due tende, alla rampa dell'asse attrezzato e poi sulla carreggiata. Si sono creati alcuni disagi al traffico prima che i lavoratori decidessero di tornare al presidio. I lavoratori della municipalizzata protestano da settimane chiedendo un nuovo concorso e la stabilizzazione dopo otto anni di lavoro interinale. Ambientalisti preoccupati dall'iniziativa della regione per una seconda perimetrazione del parco della costa teatina. Si temono lungaggini e ripensamenti rispetto alle decisioni del Ministero dell'Ambiente. Ancora preoccupazione per le sorti delle coste abruzzesi. Dopo l'ultimo stop ad Ombrina, ottenuto con tanta fatica e una lunga battaglia, ora l'attenzione si sposta sul celeberrimo parco nazionale della costa teatina. Se per ottenere una perimetrazione che mettesse d'accordo tutte le amministrazioni comunali interessate erano serviti anni, oggi spunta una seconda perimetrazione. È un tentativo tardivo da parte della regione, credo coordinato dal Presidente D'Alfonso, dico credo perché non abbiamo grandi notizie su questa seconda perimetrazione, di coinvolgere i sindaci e di ottenere una perimetrazione condivisa. Però tenendo conto che c'è un parco che esiste da 15 anni, sono stati buttati 15 anni, io credo che la politica doveva svegliarsi prima se voleva fare qualcosa. Quando si è arrivato al commissario vuol dire che la politica ha fallito e deve prendere atto il proprio fallimento. L'Egambiente dal canto suo torna sulla questione delle energie rinnovabili e sulla necessità di abbandonare per sempre quelle fossili. Diciamo che è una lotta tra due economie. Una uscente che è quella novecentesca è quella d'ingresso che punta sulle rinnovabili e sulle green economy. Ovviamente come in tutte le realtà di questo tipo ci sono delle pressioni e delle lobby che spingono per mantenere alcune rendite di posizione. Certo è che la responsabilità della politica anche a livello regionale, quindi non solo a livello di governo e anche dei sindaci, è quello di occupare posizioni nuove. Ecco perché il Parco della Costanza di Latina assume un ruolo centrale nella discussione politica anche di Ombrina, perché finché non si riesce a proiettare una nuova visione dello sviluppo di questo territorio, una nuova economia appunto green, automaticamente lasciamo sempre quel posto vuoto e si ritorna a discutere sempre delle stesse realtà. Nel tardo pomeriggio è arrivata una nota del Presidente della Regione D'Alfonso che dice a tutti gli abruzzesi, in particolare ai professionisti dell'anarmismo, ripeto, Ombrina non si farà né ora né mai. Ho ricevuto precise ulteriori assicurazioni dal Ministero dello Sviluppo, dal Ministro Federico Aguidi, dal Sottosegretario Giorgio De Vincenti, sul fatto che la vicenda Ombrina è definitivamente chiusa e non vi saranno nuove trivellazioni entro le 12 miglia dal mare Adriatico. A breve assumeremo ulteriori iniziative per aumentare la grandezza della difesa del mare blu. Se dici Pizzoli, inevitabilmente si pensa al decreto salvabanche e a Banca Etruria nel popoloso comune dell'Aquilano, oltre mille i risparmiatori che hanno perso tutto e che domani avranno un incontro a Roma. È ancora folta la colonia aquilana che dal post-sisma vive e risiede a Pizzoli, comune di oltre 5.000 abitanti, a pochi chilometri dal capoluogo. Se dici Pizzoli, poi, non puoi non pensare allo scandalo di Banca Etruria, una sorta di cassaforte per i risparmi di migliaia di pizzolani, rimasti con un pugno di mosche dopo il decreto salvabanche. Domani a Roma il Comitato Risparmiatori, il primo ad essersi formato in Italia, terrà un incontro per cercare di ottenere rassicurazioni sui rimborsi che gli obbligazionisti chiedono in toto e senza distinzioni. Domani a Roma con Nicastro ci sarà l'incontro che è stato concesso al Comitato e credo che lì si farà un po' il punto e la situazione e si capirà meglio come andrà a finire questa vicenda. A oggi i risparmiatori hanno cercato in tutti i modi di far sentire la loro voce e di portare all'attenzione del Governo questo tipo di problematica. Non mi pare che il Governo stia rispondendo nel modo che i risparmiatori vorrebbero, però loro insistono e non hanno intenzione di mollare. Forse l'incontro con Nicastro potrebbe essere il punto di partenza per una soluzione diversa da quella che è stata proposta, perché quella proposta non è accettabile. Il Sindaco di Chieti di Primio stila un bilancio del lavoro effettuato nel 2015 caratterizzato da difficoltà economiche, tagli ed emergenze sul territorio. Umberto di Primio incontra la stampa per rendere pubblico il lavoro svolto nell'anno appena concluso. Quattro punti cardine sui quali è ruotata l'amministrazione della città, dalle politiche economiche gravemente danneggiate dai tagli del Governo alla volontà di aumentare la trasparenza, vedi il caso, sulle case popolari e poi la riconversione degli edifici pubblici a pubblica utilità e i tanti, tantissimi tagli effettuati per non gravare sulle tasche dei cittadini. Due amministrazioni che si sono accavallate, la mia di primo mandato e questa nuova amministrazione, che hanno dovuto affrontare i problemi importantissimi. Il primo è certamente quello finanziario, nato dal nuovo sistema economico degli enti locali ma anche da aver dovuto certificare 28 milioni di euro di disavanzo con il riaccertamento dei residui. La rinegociazione dei muti che ci libererà 13 milioni di euro nei prossimi anni per investimenti in città. Abbiamo abbassato il rato dei muti, abbiamo abbassato il tasso al quale ci vengono prestati i soldi, che ci sono stati già prestati i soldi. Questo vuol dire avere un po' più di respiro nel bilancio comunale. Abbiamo fatto 14 milioni di lavori pubblici nella nostra città in 12 mesi e abbiamo fatto 4 milioni di investimenti soltanto nel settore sociale. Questi sono i dati più significativi. Ma lasciate anche che dica che in soli 6 mesi abbiamo riportato trasparenza totale nel settore politica della casa che tanto ci aveva fatto penare nei primi 5 anni. Spiega di primio, tutti sono stati chiamati a rigore e alla parsimonia. Vedi l'abbandono delle auto istituzionali e poi la rimodulazione di mutui che hanno liberato milioni di euro pronti ad essere reinvestiti in servizi per la città. Ma il vero nodo resta il governo che grava senza possibilità di appello sulle amministrazioni comunali. I nodi restano certamente quelli di carattere economico-finanziario. Resta il dato ineludibile di comuni, non soltanto il mio, che hanno difficoltà ad andare avanti perché non hanno risorse per poter andare avanti. Rimane il fatto di un sistema, quello della legislazione nazionale, che continua a incidere sull'autonomia degli enti locali e che non è più consentibile. Non è possibile che a metterci la faccia debbano essere sempre e soltanto i sindaci e che poi da Roma qualcuno giochi con noi come se stessa giocando a Monopoli. Ed ora ci spostiamo a Teramo dove il primo cittadino Brucchi sta per varare il nuovo assetto della Giunta. Non sapremo quanto ha deciso fino a venerdì, ma da questi incontri è maturata una scelta che magari prima non c'era? Assolutamente sì. Io sono davvero contento e soddisfatto di queste consultazioni. Consultazioni, soprattutto perché hanno partecipato alle consultazioni non soltanto i rappresentanti delle liste, ma tutti i consiglieri comunali e anche qualche rappresentante al di fuori dei consiglieri. E ognuno di loro ha messo in evidenza gli aspetti positivi, negativi, suggerimenti, le proposte anche programmatiche di programma per tutto il 2016 e per il futuro. Quindi davvero consultazioni che ritengo molto utili per quello che saranno poi le scelte che io nei prossimi giorni, quelle conclusive e definitive, dovrò andare a fare. Gli aspetti fondamentali sono fondamentalmente tre, li possiamo racchiudere in tre aspetti. Chiarezza nella formazione delle liste. Questi incontri sono serviti a capire che in questo momento ci sono sei gruppi che sono in maggioranza. C'è una lista, Fratelli d'Italia, che non è in maggioranza, ma che ha espresso la volontà a voler rientrare in maggioranza. Il secondo aspetto è un aspetto importante che è il bene comune. Mettere da parte o in secondo piano quello che è il discorso, diciamo, degli assessorati, delle deleghe, perché non sono questo l'obiettivo di un'amministrazione. Un'amministrazione ha l'obiettivo di risolvere i problemi della città. E come terzo aspetto è la stabilità. Tra le consultazioni, venerdì scorso si è svolto l'incontro con il gruppo del nuovo centrodestra. E soddisfazione è stata espressa dal consigliere Giorgio D'Ignazio, evidentemente per qualche conferma già ricevuta. Chiaro che la nostra componente di giunta, noi chiediamo che venga riconfermata. Il sindaco ha avuto parole di elogio nei confronti dell'operato dei nostri assessori e questo ci ha fatto fortemente piacere, quindi sotto questo punto di vista non ha presentato nessun problema particolare. Tutti e tre gli assessori stanno lavorando bene, anche il gruppo consigliare rimasto è affidabile e sicuro, quindi si vedrà. È chiaro che per noi è importante che venga riconfermata, e vengono riconfermati tutti e tre gli assessori, parliamo quindi dell'assessore Cozzi, dell'assessore Tancredi, dell'assessore Misticoni, e poi soprattutto di un rilancio dell'azione politica del sindaco. Sicuramente l'amministrazione comunale di Teramo sta facendo meglio delle altre amministrazioni comunali, a mio avviso, che sono quelle di Chieti, di Pescara e dell'Aquila, e soprattutto in maniera particolare riguardando il nostro territorio provinciale. Mi sembra che il sindaco di Giuliano abbia ben altri problemi, assessori che si dimettono, sotto questo punto di vista credo che la nostra tenuta di maggioranza sia più forte. Tutti in calo i sindaci abruzzesi nella graduatoria nazionale del gradimento, pubblicata dal Sole 24 Ore. Il meglio piazzato è il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, ultimo dei sindaci abruzzesi dei comuni capoluogo, il primo cittadino di Teramo, Maurizio Brucchi. Il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, è il primo cittadino più amato in regione, secondo la Governance Poll 2015, che regista il gradimento degli amministratori, stilata dall'Istituto Demoscopico IPR Marketing per il Sole 24 Ore. Il primo cittadino pescarese si piazza nella classifica generale dei sindaci di città capoluogo al diciassettesimo posto. Alessandrini, tuttavia, che ha totalizzato un 59% di gradimento, ha perso il 7,34% del consenso ottenuto lo scorso anno. Il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, risultato al 56esimo posto con un indice di gradimento del 53%, perdendo l'8,36% rispetto al risultato della prima elezione nel 2010 e due punti percentuali rispetto al risultato della rielezione per il secondo mandato nel 2014. La classifica prosegue con il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, che si attesta al 63esimo posto con un gradimento del 51,5% ed un calo del 7,7% rispetto al 2012. Ultimo sindaco in quanto a consensi è il primo cittadino di termo, Maurizio Brucchi, che si posiziona al 95esimo posto, in coda alla classifica italiana con un 46% di gradimento, in calo del 5,5% rispetto al 2014. Il risultato dei quattro sindaci è in controtendenza con il dato nazionale che vede i primi cittadini italiani nel complesso guadagnare oltre un punto di consenso per gli amministratori dei quattro capoluoghi, gradimento invece in calo significativo. L'associazione ambientale della provincia di Teramo, denominata GADIT, negli ultimi mesi è stata oggetto di diversi esposti relativi al modus operandi dei volontari e dell'attrezzatura utilizzata. Oggi è arrivato il chiarimento da parte del presidente Gaetano Ercole. Una richiesta di chiarimenti alla Questura, alla Polizia Stradale, alla Prefettura di Teramo è stata inoltrata lo scorso mese di luglio dal coordinamento regionale della Polizia Locale, UIL Funzione Pubblica, sull'uso dei mezzi in dotazione alla GADIT e delle divise. La UIL ha chiesto l'inserimento della dicitura a volontari per non essere forviante nei confronti dell'opinione pubblica. Questa mattina, dopo le innumerevoli polemiche intorno all'operato dell'Associazione Ambientale, pronta la replica con tanto di chiarimenti del presidente Gaetano Ercole. È stato portato al maglio della Prefettura e dagli organi di Polizia e quindi anche dalla Questura. Mi sorge strano che questo signore, il coordinatore della UIL, non abbia questa documentazione perché noi abbiamo avuto le autorizzazioni e dalla Prefettura e quindi anche riconosciute dal Ministero dell'Ambiente per quanto riguarda le nostre divise, il Ministero della Difesa, scusatemi. In più, diciamo che la nostra perplessità sorge appunto perché abbiamo avuto quindi parere favorevole all'esposto che lui ha presentato. Quindi la nostra regolarità e la piena regolarità è stata messa nero su bianco quindi dall'autorità competente. Spieghiamo bene come funziona la vostra associazione. Noi siamo dei volontari, quindi è un'associazione senza scopo di lucro che si mettono a disposizione quindi per l'ambiente e per il cittadino. C'è una differenza però tra le comuni e i guardi, cioè tra i volontari e i ambientali e i decreti di guardia giurata provinciale, regionale, zoofila. Cioè, mi spiego meglio, i volontari, le guardie ambientali volontarie non possono elevare sanzioni. Cosa diversa che succede con le guardie nominate dalla prefettura e la prefettura è dominata dalla provincia e nominata anche dalla regione. Apriamo ora la pagina sportiva e parliamo di Serie B e di Pescara. È iniziata la settimana tipo che porterà all'impegno di campionato in vista del match di sabato contro il Livorno. Si torna a giocare dopo una lunga pausa, una lunga sosta nella seduta odierna. Al poggio degli Olivi, lavoro personalizzato per l'attaccante Marco Sansovini, lavoro differenziato per il difensore esterno Francesco Zampano. Regolarmente al lavoro anche Alessandro Crescenzi, che è stato tra i biancazzurri più continui nel girone d'andata e che abbiamo avvicinato. Sentiamo le sue parole. Adesso abbiamo riniziato a correre pure tanto. Ci stiamo preparando per la partita di Livorno e speriamo di fare una buona prestazione e di portare i tre punti a casa che per noi sono fondamentali. Ci stiamo preparando al meglio, stiamo spingendo questi giorni per poi passare alla settimana tipo della prossima settimana. Per quanto riguarda il Livorno vogliamo, tra virgolette, una rivincita perché all'andata sappiamo tutti come finì. Loro stanno passando un buon periodo e invece noi dobbiamo continuare su questa strada. Quindi i tre punti per noi sono fondamentali. La squadra sta crescendo su tutti i punti di vista, secondo me. Anche a livello psicologico sta cambiando mentalità. Siamo una squadra più forte mentalmente. Questo anche grazie al rientro di Ugo. Però siamo convinti delle nostre qualità e vogliamo continuare a stupire e continuare a crescere. Loro vengono da un periodo di crisi, quindi vorranno uscire da questo periodo. Noi però non vogliamo uscire dal nostro e daremo battaglia al Livorno e loro dovranno stare molto attenti. In Lega Pro ha preso il via quest'oggi a Roma il processo sportivo Dirti Soccer. Tra le società coinvolte c'è l'Aquila Calcio. Il Tribunale federale ha respinto l'istanza di stralcio della posizione dell'ex dirigente aquilano Ercole Di Nicola, assente quest'oggi. L'istanza era stata presentata dall'avvocato Maurizio Prioreschi. In serata sono attese le richieste della Procura federale in coda alla requisitoria che viene tenuta dal procuratore aggiunto Gioacchino Tornatore, stante l'assenza del procuratore capo Stefano Palazzi. Invece sul fronte Teramo ripresi oggi gli allenamenti in vista della gara di sabato al Bonolis contro l'Ancona. Sarà la prima giornata di ritorno e anche la seconda partita consecutiva tra le mura amiche dopo lo 0-0 contro il Ponte d'Era. Sul fronte mercato continua la caccia ad un attaccante da parte della società per risolvere il problema del gol. Gol che però non è stato subito nell'ultimo match proprio contro il Ponte d'Era. A tal proposito ascoltiamo il portiere bianco-rosso Alessandro Tonti. Tonti, alla fine è una rimessa in gioco proprio allo scadere, quasi volessi spingere la squadra verso quel gol che però non è arrivato. Non è arrivato, ci abbiamo provato in tutti i modi secondo il mio punto di vista abbiamo fatto un'ottima prestazione però purtroppo quando la palla non entra non entra. Ha avuto un'occasione molto importante Cipioni alla fine però le partite sono fatte di episodi se non la butti dentro purtroppo non si vincono le partite però l'impegno c'è stato, la prestazione c'è stata e abbiamo corso 95 minuti ce l'abbiamo messa tutta e quello è l'importante. La parata più difficile è quella del primo tempo su Buonaventura o quella della ripresa su Scappini? Quella sul primo tempo su Buonaventura che non l'ho vista nella partita mi è apparsa all'ultimo la palla però ripeto abbiamo fatto un'ottima prestazione tutti e dobbiamo partire purtroppo da quello. Si gira comincia il gerone di ritorno è chiaro che dal Teramo ci si aspetta qualche punto in più. Ci si aspetta qualche punto in più sono convinto anche io però ripeto non è facile adesso siamo ripartiti penso al migliore dei modi facendo un'ottima prestazione ripeto però non basta solo l'ottima prestazione vorrà dire che dobbiamo metterci ancora qualcosa in più. Invece in Serie D ieri una domenica dimagra per le squadre abruzzesi le uniche che sono andate a punti sono Chieti e San Nicolò che hanno fatto 0-0 nel confronto diretto dell'Angelini. Archiviata la ricca Befana Chieti e San Nicolò scendono all'Angelini per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie D con pagini ritoccate nei vari reparti pronte per confermare la vitalità benagurante di inizio anno che si evidenzia nel primo innesto offensivo dei Teatini che imbarazzano la difesa teramana che si rifugia in calcio d'angolo. La risposta propositiva dei bianco-azzurri arriva in velocità e giusto tempismo con De Santis che caparbiamente penetra nella tre quarti e traversa ma la posizione degli offensivi ospiti è viziata da fuori gioco tant'è che la rete di Merlonghi è annullata dall'assistente signor Di Tommaso. Il Chieti non lascia la partita agli avversari e cerca di verticalizzare e al ventiquattresimo sorprende l'attenta difesa teramana che fa muro con l'estremo calore che nell'intervento si infortuna. Le risorse dei Teatini al trentanovesimo mettono in luce l'individualità di Vitale che sferra un preciso bolide neutralizzato con i pugni dall'eccellente portiere bianco-azzurro ma dopo la bella nota positiva arriva l'atto negativo che cambia volto alla gara. L'assistente Filannino richiama l'attenzione del direttore di gara riferendo di una gomitata di Dos Santos al centrale difensivo Terrenzio. Cartellino rosso dubbi interpretativi sul provvedimento disciplinare e vibranti proteste degli spettatori che rincarano la dose quando la terna arbitrale sancisce la fine del primo tempo. La contesa riapre con il Chieti rabbioso e deciso a non soccombere. Ronci ridisegna il quadro offensivo con la posizione di Varone molto più avanzata. Al quinto lo stesso centrocampista dialoga in corsa con Fiore e gira verso la porta avversaria con intuito ma con poca incisività. Si ripete il Teatino al quattordicesimo ma senza grossi sussulti per i Terramani che hanno gioco agevole nell'amministrare il possesso palla e razionalizzare gli spazi di manovra. Gli allenatori inseriscono forze nuove in campo. Il Chieti al quattordicesimo sostituisce Mariani con Pietrantonio e Molenda con Comini. Il San Nicolò al diciottesimo De Santis con Chiacchiarelli. Benché sorretta dalla volontà i neroverdi non subiscono passivamente la qualità del gioco della squadra di Epifani che al trentaquattresimo con Bucchi spreca una ghiotta occasione che poco dopo si presenta al Chieti con fiori che elude la marcatura del diretto avversario ma la conclusione è ribattuta da Brighi su cui si reclama un presunto intervento di Mani. Piovono ancora protesta sul signor Votta che concede solo l'angolo e non sortisce alcuna opportunità per infilare la porta di calore. Cinque minuti per patrimonializzare l'impegno profuso dai teatini ma il San Nicolò è convinto. non si scompone e tra decisioni arbitrali discutibili il derby si conclude con un pareggio non cercato ma sancito da quello che la gara ha offerto con i 20 gradi in campo e con gli atleti che in tenuta estiva guadagnano la meritata doccia. e invece al Dei Marsi prestazione indomita dell'Avezzano che però alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca contro la capolista San Benedettese che si è imposta per 2 a 1. grazie alle reti di Sabatino e Titone la capolista San Benedettese spugna con il risultato di 2 a 1 il Dei Marsi di Avezzano rispondendo così alla secca vittoria del Matelica e mantenendo il primato con 6 punti di vantaggio sui cugini per i ragazzi di mister Palladini quella del Dei Marsi non è stata certo una passeggiata di fronte ai marsicani che incassano il secondo K.O. di fila dopo la battuta d'arresto di Teramo con il San Nicolò si comincia dinanzi ad una cornice di pubblico importante con oltre 1000 spettatori di cui la metà giunti dalle marche campo di gioco in pessime condizioni e molto allentato l'avvio è dei Biancoverdi al terzo infatti Conson deve intervenire in scivolata per intercettare una conclusione di Bisegna appostato sul secondo palo all'undicesimo Avezzano pericoloso con Puglia che da ottima posizione chiama alla parata il portiere Pegorin prima dell'intervento di Di Genova che era però terminato in fuorigioco la risposta ospire è affidata al tredicesimo a Sorrentino che dopo un servizio perfetto di Barone controlla la sfera e tira su Davino che respinge la gara è davvero godibile giocata su ritmi forsennati al sedicesimo si rivede infatti la formazione di casa con un tiro centrale di Puglia parato a terra da Pegorin i padroni di casa dimostrano di non avere nessun timore riverenziale nei confronti della capolista che però al ventiduesimo con Titone va ancora vicinissima al vantaggio con un tiro a fil di palo passa un solo minuto e Bisegna chiama Pegorin al salvataggio in angolo con una conclusione velenosa che non inganna l'estremo ospite ma l'occasione più ghiotta capita al ventiseiesimo a Titone che a due passi da Davino alza incredibilmente sopra la traversa la gara si mantiene comunque equilibrata con il finale di tempo che vede al trentacinquesimo un tiro al lato del capitano Avezzanese Tabacco da posizione angolata nell'area marchigiana l'ultima emozione arriva invece al quarantaquattresimo quando Titone smarca Sorrentino che scarica addosso centralmente su Davino affrettando la sua conclusione nella ripresa al quinto c'è un tiro di Titone dal limite con Felliche in scivolata devia in corner gli ospiti chiedono il rigore per un sospetto tocco con la mano che probabilmente non c'è gli ospiti ci riprovano poi anche al dodicesimo con Sorrentino che di piatto dopo un'ottima azione di Titone riesce a mettere il pallone alle spalle del portiere Davino per il gol del vantaggio la reazione dei padroni di casa tarda ad arrivare così al ventiduesimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo e Sabatino a colpire male di testa permettendo alla difesa vezzanese di respingere la scossa la dà il neoentrato di Curzio che al trentaduesimo in area chiama Pegorin alla respinta con i piedi ma la capolista in agguato sul capovolgimento di fronte trova il raddoppio con Titone che non lascia scampo a Davino la Vezzano non ci sta e al quarantunesimo il neoentrato Moro di testa riaprire la gara e a regalare Brio al finale che vede al quarantasettesimo il miracolo di Pegorin sulla punizione di Bisegna e poco dopo l'incredibile errore di tabacco di testa a due passi dal portiere marchigiano giornata decisamente negativa anche per il Giulianova battuto 4 a 0 a Matelica protagonista l'ex esposito autore di una tripletta vittoria esposito stratosferico una tripletta almeno altre tre occasioni per andare in gola assist a volontà il grande ex di turno piega il giovane Giulianova costretto alla resa al cospetto di un grande giocatore il Matelica continua la sua rincorsa alla San Benedettese 4 a 0 il risultato finale ci sta perché i marchigiani hanno sofferto poco hanno amministrato bene le giocate il Giulianova le sue due e tre occasioni le ha anche avute ma sotto porta ha sbagliato incredibilmente certo non era contro il Matelica che i giallorossi potessero sperare di fare punti salvezza ma un dato è emerso rispetto alla gara di metà settimana contro il Fano seppur perdendo l'undici giuliese aveva offerto una prova molto più convincente tra gli ospiti non c'è il portiere Proietti seppur tesserato in settimana ma non disponibile perché deve finire di scontare due giornate di squalifica rimediate nel campionato di Serie B Svizzero sarà a disposizione dopo la sosta sin dalle prime battute si capisce che il possesso palla sarà dei padroni di casa che chiamano in causa Ursini a più riprese l'estremo giallorosso chiude bene lo specchio della porta e ci mette più di una pezza quando Esposito si presenta tu per tu nonostante il gran volume di gioco il Matelica non riesce a sfondare il muro abruzzese anzi la truppa giuliese ha l'occasione di sbloccare al quarantunesimo Marzucco si ritrova il pallone a due passi dalla porta ma spara clamorosamente alto ad un minuto dal riposo i locali sbloccano una gara che rischiava di complicarsi la firma è di Pesaresi che manda la sfera all'angolino basso dove Ursini non può arrivare con il vantaggio acquisito tutto sommato meritato la formazione di Clementi torna negli spogliatoi rinfrancata nella ripresa la musica non cambia molto il Giulianova dà solo l'impressione di avere un certo possesso palla ma intorno al quarto d'ora su punizione Esposito fa passare la palla sotto la barriera sorprendendo Ursini per il 2 a 0 i giallorossi la partita la potrebbero anche riaprire ma Pellecchia timbra il palo e a Di Stefano non riesce il tapin così arriva il 3 a 0 di Esposito al ventiquattresimo il talentuoso attaccante calerà il poker per i suoi al trentatresimo chiudendo di fatto i conti senza neppure esultare più di tanto quasi per rispetto della sua ex squadra nonostante i tifosi giuliesi lo avessero beccato per quasi tutta la partita il finale di gara è solo pura accademia alla fine applausi per tutti anche per il Giulianova che è alla ricerca sul mercato di un attaccante per risolvere i problemi in fase offensiva il Matelica resta in scia era questo l'ultimo servizio del TG6 vi lascio ora al TG6 l'Aquila e vi ricordo l'appuntamento di questa sera in diretta con Replay il settimanale condotto da Enrico Rocchi con al centro le vicende del Pescara vi ripeto alle ore 21 grazie per l'attenzione buona serata grazie a tutti